Buona giornata miei carissimi amici di investire in borsa a caccia di dividendi. Prima o poi vi capiterà, in particolar modo se siete abbastanza giovani, di incorrere in mercati orso, quindi mercati ribassisti. Un periodo durante il quale i prezzi degli asset si muovono verso il basso. Chi è molto giovane, dicevo poco fa, probabilmente non ha vissuto dei mercati ribassisti particolarmente intensi. Magari qualcuno ha vissuto il 2022, si è stato un ribasso azionario, poi prontamente recuperato nel 2023. Le obbligazioni hanno sofferto tantissimo, molte non hanno ancora recuperato i propri prezzi. Però, se andiamo indietro nel 2020, abbiamo avuto un mercato ribassista con un calo molto importante del 30-40%, ma concentrato in pochissime settimane, in particolar modo nel mese di marzo, periodo durante il quale è scoppiato la pandemia Covid e durante il quale i mercati azionari hanno avuto una fortissima volatilità. Ma poi, già a partire d'aprile, è partito un rimbalzo molto potente dei mercati azionari. E dentro la fine dell'anno i mercati americani, ad esempio, avevano già recuperato tutto quello che avevano perso. Molti di voi, però, magari non hanno vissuto la crisi finanziaria del 2007-2009 all'incirca, oppure la bolla .com di inizio anni 2000. Ebbene, quelli sono stati periodi di ribasso sui mercati azionari che sono durati molto a lungo e hanno messo a dura prova i nervi degli investitori. E molti nervi probabilmente sono anche saltati. Spesso colleghiamo il fatto di un mercato ribassista, di un mercato orso, alla perdita di denaro. Tuttavia, se sfruttato nel modo adeguato, un mercato ribassista può essere anche una fonte di grandi profitti. In questo video cercheremo quindi di capire cos'è un mercato ribassista e quali sono gli errori da non commettere. Quindi seguite tutto il video fino alla fine, però prima di partire direi di mettere un bel like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi a Mestri in Borsa Caccia di Dividendi per non perdervi i prossimi video. Un mercato ribassista è un mercato in cui i prezzi si muovono verso il basso. Quindi abbiamo i prezzi dei prodotti finanziari, che possono essere azioni o ETF o fondi, che stanno gradatamente diminuendo. Potremmo in un certo senso andarlo a paragonare ai prezzi delle cose che noi troviamo al supermercato. Se io sono solito magari comprare un determinato dentifricio che costa 2€, se lo vedo a 1,50€ non devo prendere paura, anzi probabilmente ne andrò a comprare un po' di più e fare delle scorte. Ebbene questo potrebbe succedere anche sui mercati finanziari. Mercato ribassista viene spesso collegato alla figura dell'orso. Perché questa cosa? In pratica perché l'orso, quando attacca, lancia le zampe dall'alto verso il basso. E per questo si chiama proprio mercato orso, mercato ribassista, dall'alto verso il basso. Invece quando il mercato è rialzista si parla di mercato toro, che solitamente attacca lanciando le corna dal basso verso l'alto. Vi faccio un esempio così magari capite meglio. Bene, dai, dopo questa cosa passiamo agli errori da non commettere. Errore numero uno, vendere tutte le posizioni durante un mercato ribassista. Durante la flessione del mercato, quando molti prodotti perdono valore più o meno rapidamente, molti investitori decidono erroneamente di tagliare tutte le proprie posizioni. Il problema è che lo fanno nella speranza di risparmiare un po' del capitale investito, accettando perdite a volte anche abbastanza importanti. In realtà un investitore che ha un orizzonte temporale di lungo termine non dovrebbe preoccuparsi più di tanto di un mercato rialzista o ribassista. Dovrebbe in realtà restare fiducioso sulla propria strategia. Per quanto mi riguarda e per quanto riguarda molti di voi, probabilmente la strategia è quella di incassare i dividendi periodicamente e che il mercato sia rialzista o ribassista, questo cambia poco. I dividendi molto probabilmente continueranno ad arrivare. Magari qualche azione potrebbe tagliare il proprio dividendo, ma magari ce ne sono tante altre che lo aumenteranno comunque. Un secondo errore molto grave è quello di controllare il portafoglio con una grandissima frequenza, addirittura anche tutti i giorni. Se un investimento ha un orizzonte temporale di lungo periodo, diventa inutile andare a vedere il portafoglio quotidianamente. È a lungo termine questo investimento. Non cambia niente anche se lo guardate tutti i giorni. Anzi, probabilmente questa cosa vi farà male e potrebbe persino farvi dubitare sulla vostra strategia tanto ben congegnata. Tieni duro, non arrenderti e abbi fiducia sulla tua strategia a lungo termine. E non cambiare semplicemente strategia solo perché hai visto il portafoglio che è sceso del 5-10%. Magari la prossima settimana ne perderà un altro 5-10%. Questo non lo possiamo sapere. Magari invece recupererà anche tutto. Quello che sappiamo è che se è veramente il lungo termine il nostro orizzonte temporale, nel lungo termine le borse continuano a salire. Pertanto attieniti al tuo programma, attieniti al tuo progetto, continua a incassare i dividendi e fregatene abbastanza di come vanno i mercati. A meno che tu non debba fare degli acquisti. Allora sì che se il mercato scende potrebbe essere interessante intensificare gli acquisti e gli investimenti. Errore numero 3. Lasciarsi guidare dalle emozioni durante il mercato orso. Come per ogni investimento, le emozioni sono il peggior nemico. Anzi, la dico tutta. La finanza comportamentale, per quanto mi riguarda, ricopre almeno i tre quarti dell'importanza in una strategia di investimento. Io posso essere anche bravissimo a scegliere le migliorazioni, i migliori strumenti di investimento, ma se non riesco a dominare i miei comportamenti, la strategia può tranquillamente saltare a gambe all'aria. Pertanto, ok fare i calcoli, ok fare i backtest, ok scegliere strumenti ad accumulazione o a distribuzione a seconda della propria strategia, ok aumentare anche la quota di azionario per avere rendimenti elevati in lungo periodo, ma i comportamenti sono le cose fondamentali. Perché se io giustamente imposto un portafoglio per un lungo periodo, non mi devo far condizionare dalle mie emozioni durante l'arco della vita dell'investimento. La paura, la delusione, l'eccitazione sono emozioni difficili da controllare e ci portano talvolta a prendere anche decisioni sbagliate per i nostri investimenti, sia nel bene che nel male. Cosa vuol dire? Se magari ho un periodo durante il quale faccio diverse operazioni in fila, vincenti, cosa vuol dire? Fatte bene, entro nel periodo giusto, sono fortunato a scegliere lo strumento e il momento per investire probabilmente mi sentirò invincibile e potrebbe essere proprio in quel momento che inizio a fare degli errori. Magari aumenterò il capitale sul quale fare le operazioni, aumentando quindi il rischio, farò meno analisi, sarò più distratto proprio perché mi sentirò molto, molto bravo e cercherò di massimizzare i profitti. tuttavia significa anche aumentare i rischi. Cercare di aumentare significatamente i propri guadagni vuol dire aumentare i rischi e rischiare anche di finire in negativo. Attenzione, quindi alle emozioni. Quando invece sono in perdita potrebbe anche accadere di voler fare di tutto per cercare di recuperare quanto perso, magari con il risultato di peggiorare ulteriormente la situazione ed aumentare anche le perdite. quindi è importante mantenere sempre la lucidità, fare eventualmente un passo indietro, cercare di non cliccare troppo sul tasto vendi compra dell'home banking e cercare di analizzare in maniera fredda il proprio portafoglio, i propri investimenti e attenersi sempre alla propria strategia. Strategia che per comodità potrebbe anche essere scritta su un foglietto e lasciata in un cassetto comoda da leggere al momento del bisogno. Errore numero 4 da non commettere durante un mercato negativo aspettare che il mercato sia più sicuro. Gli investimenti finanziari per definizione non sono sicuri e non sono garantiti. Anche i BTP non sono sicuri al 100%. Neanche un titolo di stato tedesco può essere sicuro al 100%. Ci può essere sempre un fattore di incertezza spesso aspettare il momento giusto per investire significa anche perdere le migliori opportunità che si presentano. Ovviamente è giusto prendersi il proprio tempo per decidere ma non aspettare troppo. Ci sono tante persone che continuano ad aspettare il momento migliore per investire e in realtà questo momento migliore secondo il loro punto di vista non è mai arrivato e in tanti anni in tanti decenni nel frattempo i mercati azionari hanno continuato a salire. D'altronde non siamo maghi non siamo preveggenti non possiamo sapere qual è il momento migliore per vendere e non sappiamo qual è il momento migliore per comprare. Personalmente continuo a comprare tutti i mesi strumenti finanziari cercando di selezionare quelli che mi sembrano un pochino più sottovalutati a volte possono essere le azioni a volte possono essere le obbligazioni a volte posso azzeccare il momento giusto a volte posso non farlo ma comunque continuo a immettere capitale nel mio deposito titoli e tutto questo in cosa si trasforma in un aumento graduale dei dividendi che incasso ogni mese. spero che questo video vi sia stato utile per prendere le decisioni migliori per i vostri investimenti soprattutto dal punto di vista comportamentale. Per oggi abbiamo finito un saluto a presto e ciao